benvenuti nel mio canale io sono l'indagatore ma oggi andremo a parlare di una storia di guerra qui non ci sono indagini non ci sono generali non ci sono leader e non ci sono weltschauung grandi visioni del mondo ma parliamo solo di soldati semplici di uomini donne bambini nei loro ruoli di maestro di scuola di panettiere di medico di famiglia e di casalinghe tutte quelle vite che la guerra le ha condizionate le ha scardinate e quali fatti straordinari non sono caduti in tempo di guerra atti di eroismo o i sacrifici delle persone per sopravvivere ma oggi parleremo di una storia d'amore tra un soldato tedesco un sotto ufficiale della wehrmatt e una ragazza ucraina intanto per capire bene la situazione il palcoscenico dove avviene questo incontro e questo amore dobbiamo spendere alcune parole per inquadrare quindi questa situazione quindi le armate tedesche con l'operazione barbarossa invadono l'unione sovietica e quindi le forze del sud invadono praticamente quella che è l'ucraina preciso che è un sotto ufficiale della wehrmatt perché è importante precisarlo perché la wehrmatt sono sì quei soldati che portano l'aquila con la svastica nell'uniforme certo ma sull'elmetto di ferro non hanno la ss quelle sono le e l'abbiamo visto nel video delle quando abbiamo parlato delle einsatzgruppen che sono quelli che stavano alle spalle della wehrmatt voglio dire questo perché quando le forze tedesche sono entrate in ucraina e questo lo potrete vedere anche nelle immagini del video la popolazione ucraina ma non solo perché anche quella bielorussa o anche quella dei paesi baltici ma anche parte della russia quella più vicina all'europa hanno incontrato l'armata tedesca con fiori abbracci saluti e consegne simboliche di pane perché erano visti come liberatori liberatori dal gioco sovietico e così questo è stato in ucraina e qui c'è il sotto ufficiale wielm diez fa parte dell'esercito della wehrmatt che invade l'unione sovietica è un buon soldato wielm era una persona normale era un soldato anzi prima della guerra intanto faceva la sua famiglia era una famiglia di lavoratori e lui era un disegnatore di porcellana quindi una persona un artista che piaceva a disegnare all'avvento del nazismo ha fatto parte di quelli che non lo hanno votato e non in pochi votarono adolf hitler lo guardò con sospetto ma non fece niente e poi si ritrovò infatti con uniforme e spedito in guerra prima in francia dove ha mostrato di essere un buon soldato e infatti da soldato semplice passò a sotto ufficiale perché il nostro wielm è un sergente maggiore e poi viene spedito a russia dove la guerra si fa un po più seria figuriamoci che si trovava a stalingrado e poi dopo ferito viene mandato nelle retrovie in ucraina e si ritrova in una di quei villaggi sperduti dell'ucraina dove c'è tanto verdi bellissime valli e la popolazione locale semplice sorridente bellissime ragazze e lì in uno di questi villaggi sperduti wielm ferito ma adesso sta un po meglio fa la conoscenza di fenia una bellissima ragazza ucraina intanto wielm in questo momento di di sosta e reduce dai combattimenti feroci nell'unione sovietica è chiaro che qualche pensierino di non capire quello che stava succedendo essendo una persona normale e non alimentata da quella che è un'ideologia folle probabilmente stava pensando di di andarsene a casa ma questo significherebbe disersione e sapeva benissimo cosa succede disertori intanto quando per caso conosce feia e la conosce mentre stava cercando i cavoli e sì perché ci troviamo in una zona che e anche le difficoltà quelli che sono durante la guerra delle delle scorte dell'alimentazione e in quella zona lì in quel villaggio gli abitanti del posto si nutrivano con i cavoli che crescono sulla terra nei nei campi e sappiamo bene che comunque anche tedeschi cavoli piacciono molto soprattutto quelli degli altri comunque a parte questo e si incontrano mentre gli abitanti del posto alla ricerca dei cavoli insieme ai soldati della wehrmacht e quindi guardate lì questa diciamo collaborazione questo clima tenue tranquillo che c'era tra gli abitanti del posto e i soldati della wehrmacht perché tutto sommato erano rispettati che lingua utilizzavano e beh il tedesco perché la nostra bella ragazza ucraina feia studiava il tedesco anzi lo insegnava anche e quindi avevano una lingua in comune perché wehrm certamente non parlava né ucraino e né russo intanto tra i due nasce subito un feeling perché quando si presentano isch bin vielme ich bin feia e scusate il mio isch o ich perché nella pronuncia tedesca di questa isch io preferisco quella più labiale dolce isch ma a volte qualcuno corregge i puristi e puristi del tedesco della lingua o delle varie lingue vogliono invece la pronuncia perfetta che a volte invece si orienta anche dalle posizioni geografiche non per niente noi italiani andiamo a vedere le nostre pronunce le nostre vocali a e i o u che si aprono e si chiudono non in base alla grammatica ma in base alla posizione geografica della nostra terra italiana della nostra penisola ma comunque ritorniamo ai nostri due ragazzi che si incontrano feia rossisce subito ma c'è questo questo feeling e i due pian piano si innamorano e poi insomma sappiamo bene quello che quando tra tra due ragazzi nasce l'amore e si cominciano a confidare le le cose e sì probabilmente c'era un po di sospetto da parte di feia di questo ragazzotto che senza l'uniforme tedesca poteva benissimo essere passato per un ragazzotto ucraino ma gli racconta del fatto di cronaca del del villaggio i paesani del villaggio avevano nascosto una mucca e si l'avevano nascosta perché i nostri tedeschi sono soldati hanno bisogno di rifornimenti e quindi prendono così si suol fare dai tempi delle guerre puniche si suol fare prendere il cibo gli alimenti dai dagli abitanti del posto ma via non tradisce la ragazza giustamente feia ha riposto bene la sua fiducia in via ma anzi via ma non fa altro che distogliere l'attenzione dei suoi commilitoni alla ricerca della mucca in posti sbagliati scusate ma in quella situazione lì la mucca la ricerca della mucca questa caccia al tesoro è molto importante intanto feia in questo periodo in cui i tedeschi erano nel suo villaggio e con la sua conoscenza della lingua tedesca veniva utilizzata dai soldati come interprete o come la preparazione di documenti e infatti lei mentre compilava questi documenti aveva anche modo di venire a conoscenza dei fatti importanti della di quella che era la vita dei tedeschi nel suo villaggio e scoprì che arrivò l'ordine di un suo trasferimento in germania probabilmente questo sarà stato un trasferimento di lavoro ma intendiamoci bene quando lei vide quest'ordine ancora non attuato perché se ne accorse prima non è che gli fece tanto piacere abbandonare la sua terra e andare chissà dove e chissà per quale motivo e quando questo lo raccontò al suo amato oramai vielma anche a vielma e questo non non fece piacere e quindi lui fece in modo non sappiamo come ma di far sparire quest'ordine e quindi fenia non venne trasferita in germania rimase nel villaggio e intanto mentre c'è questo amore tra wielm soldato tedesco e fenia la ragazza ucraina del villaggio la guerra va avanti ma per i tedeschi comincia a andare indietro quindi tedeschi si devono ritirare e quando arriva all'ordine di ritiro della guardigione tedesca e di questo piccolo ospedale in questo villaggio di ritirarsi devono andarsene tutti compreso anche wielma ma in quel momento lì wielma prende una decisione e tutto sommato si diventa un perché lui sparisce sparisce nel nulla non rientra non parte con i suoi soldati nella ritirata andare via dal villaggio probabilmente i suoi commilitoni avranno pensato che era morto forse ucciso dai partigiani e infatti i genitori di wielma ricevono la lettera poi dopo a casa che wielma è morto coraggiosamente in guerra e nella sua chiesa viene anche appesa la targa della sua data di nascita e di morte come eroe di guerra e quindi wielma tutto sommato come soldato della wehrmacht muore in quel momento però wielma vive vegeto e si è nascosto nella soffitta di fenia e lui resterà nascosto in questa soffitta per circa 50 anni quando i soldati della wehrmacht si sono ritirati intendiamoci bene che l'ucraina faceva parte dell'unione sovietica della di una repubblica dell'unione sovietica e in quel momento lì a capo dell'unione sovietica sappiamo bene chi c'era ecco joseph e stalin poi è stato raccontato che la notte usciva perché la notte in un villaggio non ci sono certi lampioni con la luce la luce è solo quella della luna e delle stelle e se fumava non lo so ma comunque prendere una boccata d'aria farsi una passeggiata ma poi subito subito magari quando il sole stava per sorgere subito perché ci sono i vicini di casa non si sa mai e quindi su in soffitta e così passarono gli anni a premetto che i due si erano sposati segretamente quindi erano già marito e moglie ma in segreto wehrm aveva tanto tempo libero e quindi aveva modo di studiare la lingua del posto cioè l'ucraino e quindi wehrm finché non imparò molto bene la lingua del posto o quantomeno quelle espressioni della semplice vita non poté passeggiare quindi il nostro wehrm venne presentato ai vicini di casa come il marito di fenia che lavorava a kiev lontano e ogni tanto veniva al villaggio così per stare tranquilli il suo cognome venne ucrainizzato da diez e l'ufficiale dell'anagrafe prepara i documenti per il nostro dot senco vasili per gli amici vasia il nostro vasili era molto bravo abbiamo detto a dipingere sulla porcellana quindi a parte questi lavoretti artistici ma lui era molto bravo anche nel riparare e questo anche grazie ai corsi della wehrmatt a riparare tutto ciò che era meccanico e quindi ebbe modo di trovare lavoro e quindi di lavorare lui con le sue mani costruì la loro casa però era una casa che stonava rispetto alle altre case intorno e meno male che non ci sono stati delle indagini perché lui costruì una casa che non non era come quelle del posto sì in parte in mattoni in parte in legno comunque con uno standard ucraino lui costruì essendo tedesco è chiaro che costruì una casa in stile tedesco o quantomeno diciamo europeo che all'occhio di un tedesco se ne sarebbe accorto che quella era una casa tedesca e con in alto sulla soffitta una bellissima vetrata e probabilmente costruì questa vetrata perché dopo un'esperienza di qualche anno fatta in soffitta dove non c'era forse neanche la finestra o se c'era uno spioncino allora lui abituato a vivere sulla soffitta si costruì una bellissima vetrata in soffitta però nessuno fece indagini nessuno andò a cercare di indagare e gli anni passarono così vasili il marito di fenia che ora fenia non è più una bellissima ragazza ma è una donna adulta già è nato un bambino pavel che non sa niente del papà non sa che il papà è un ex soldato tedesco però gli sa strano e infatti qualche volta mentre cresce gli dice manca la mamma ma perché papà è così strano perché papà non è come tutti gli altri papà perché papà si nasconde e non andiamo a pesca perché gli altri bambini con i papà vanno a pesca e perché non devo dire niente perché a lui la risposta che riceve è sempre quella non fare queste domande papà non si deve far vedere per determinati motivi papà è una brava persona ma tu non devi dire niente che papà si nasconde in casa vai a pesca da solo e il nostro pavel cresce così il nostro vialm ha passato una vita semplice in un villaggio ucraino nell'ucraina sovietica un po' con la paura di essere scoperto perché tenete sempre presente che ci troviamo nella ucraina sovietica e il nostro vasili che per imparare l'ucraino e il russo insieme ci vogliono degli anni e quindi sempre quella paura che poi con i documenti non siamo a posto ho violato qualche legge divento un criminale di guerra vado a finire in tribunale mi arrestano mi portano chissà dove e come mi guarderanno poi dopo le guardie nei carceri e gli stessi prigionieri che io arrivo lì sì vabbè parlerò l'ucraino e il russo ma sono tedesco le paure c'erano ma paure serie talmente tanto serie che in tutti questi anni per 50 anni vialm ma oramai vasili con accento ucraino non contattò i suoi parenti in germania la sua famiglia che sapeva che invece era morto da eroe in terra russa poi arrivò il giorno in cui fenia oramai vecchia morì e anche durante il funerale vialm vasili restò su in soffitta vasili scese di notte e per tre giorni restò lì a piangere sulla bara aperta di fenia toccandogli la mano baciando di tanto in tanto la fronte e restò lì a piangere poi decise che era giunto il momento di raccontare di non aver più paura di niente e raccontò quindi questa storia 50 anni circa di come lui si nascose in una soffitta durante la guerra e dopo la guerra e pavel figlio oramai adulto con tanto di moglie e bambini s'accorse un po sconvolto di avere parenti in germania e il nostro vasili oramai vecchio decise che era giunto il momento anche di andare in germania e quindi senza tanta paura cominciò a contattare i suoi parenti che tutto sommato sconvolti ma prepararono i documenti il visto perché sulla carta vasili dot senco esisteva vialm diez era morto il nostro vasili ritorna in germania e va nella sua cittadina natale e incontra i parenti che gli sono rimasti comincerà anche a fare quelli che sono dei discorsi burocratici per dire alla germania che lui è vivo e infatti fa togliere dal parroco la la targhetta che lui non è morto in guerra da eroe ma che è vivo e riuscirà in tutto questo e anzi riuscirà anche non solo a riprendere la sua cittadinanza tedesca ma prendersi anche una bella pensione tedesca tutto sommato questa è una storia strana particolare ma lui la sua vita l'ha passata in soffitta per amore di una bella ragazza ucraina voi cosa ne pensate di questa storia di vasili soldato della wehrmacht disertore per amore e di fenia una semplice ragazza ucraina che parlava tedesco e si innamorò di un soldato della wehrmacht grazie e al prossimo video con un'altra storia di guerra